Ciao ragazzi! Buona Befana a tutti! Anche a noi è arrivata la Befana! Adesso chiamo Awa e vediamo quello che ci è arrivato. È arrivato pure a me qualcosa e vai! Awa! È arrivata la Befana! Sei pronta? Andiamo a vedere! E andiamo dai! E vai! Guarda la roba! Quelli suoi miei sicuro! Vediamo cosa c'è? Vediamo! Cominciamo! Ho messo queste con i miei calcini! Chiaramente li abbiamo lavati eh! Noi siamo valmi! Perché non vedi i scorsi! Gli elastichetti! Wow! Trocicolo! Belli! No vabbè ci sono i miei calcini! No troppo bello! Vai! Mmm buoni! Allora di Halloween! Eh! Queste bocche con i denti! Oh buoni queste! Questa è la fragola! Questi di qua! E tu le fai vedere! Io te le passo! No! Sono alla fragola! Guardate che buoni! Non sono uscite le fragola! Guardate che buoni! Non sono uscite le fragola! Guardate che buoni! Non sono uscite le fragola! Io lo so fare uscire! Ecco guardate! Sono un po' strani nel saggassasino! E' la fragola! E' la fragola! A te è interviato! No, a me quelli sono gommi! Ah! Ecco! Pute gomme! Le anguri e la buccia! E sono gomme! non so cosa sia ma so che sarà buonissimo questo è un unicorno unicorno di poli non mi fa perché è un unicorno di poli da mangiare colla del bar colla 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 sei guardate tre più tre stai vediamo l'altra canzone che c'è sta dentro no 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 ma queste sono gomme che so so gomme fa vedere come sono allora guardate c'è questo uovo di pij mask poi c'è questa qui ne sono aspetta fatemi fare i calcoli ma perchè sopra le colline via mandiamolo eh ne sono cinque allora queste me le mando io cinque e queste uno tra le do queste sono mie non è la lettera della bevara ma certamente questa è mia si però mia mamma proprio i dolci ne dà lo sai che mi dà momo? momo sapete che mi dà pezzo minuscolo così ragazzi guarda il tuo questo che facevi allora a noi ci sono arrivate un sacco di cose a lei ha preso i biscotti i cookie ma non mi importa perchè io i cookie li adoro ma un giorno li faremo anche insieme che dici? io li so fai i cookie eh io no? io si io i biscotti normali si a voi che cosa vi è arrivato per la pefana? tante cose ah niente di carbone stavo dimenticando il carbone non c'era oh e vai a vedere lì quella è la cazzo di gari allora delle bar abbiamo anche quella dai nel frattempo fateci sapere oltre che è arrivata a voi eh quante cose buone vi sono arrivate e non stiamo sempre a mangiacaramelle apri apri robbi tutto apri fangete grazie alla befana di ziari dai io le io te le do ma è mezza nuova fammi vedere ah stendere più per male ho io la soluzione prendiamole e farmi ci danno a tutto brava vai taglia oh attendo il pedaglia a mano vai e one uh marshmallow colorabile no gli adoro ecco il carbone lo stava raga eh mi sembrava strano che non c'era il carbone che buono il carbone vabbè questo che cos'è voglio vedere c'è altro carbone oddio ehi non si deve congelare le fresche siamo più buone che che oro sono fagli vedere così magari qualcuno lo dice che oro sono sono fresche e un po' vi usci bene oh è una bella polaretti no è una bella polaretti e riso e cioccolato che è una bella polaretti e riso e cioccolato e poi c'è questo guarda che carino vabbè lo apriamo adesso così vediamo va bene io l'ho curioso ah con le gelatine alla frutta no le voglio subito eh ma non lo metti in freezer credo no sono già fredde dai non vedo l'oro si vai vada a mettere in freezer eccole ragazzi vanno in freezer ma sono troppo buone sono fresche e la merenda te le mangi oh facciamo il video anche della merenda no 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 ragazzi si si no oggi ah oggi dobbiamo fare il video non so chi ce l'ha chiesto eh per ginnastica perché c'è un bambino una bambina non mi ricordo chi scusatemi che vuole vedere come si fa la rovesciata facciamo sia la rovesciata avanti e la rovesciata indietro così vediamo come si fa va bene me la fa vedere io no cioè io guardo io riprendo con la telecamera spievi io spiego e lei fa oh ragazzi vediamo buona befana a tutti fateci sapere nei commenti tutte le schifezzuole che avete ricevuto io adesso mi metto a mangiare tutto ciao ciao noi mangiamo